Mi chiamo Napo Pasquale e sono qui al casting a Odontia 3 a Targmuresh per vincere questo reality. Credo che abbiano scelto per la mia simpi perché sono un ragazzo molto energico e frizzantino e spero che vincerò questo casting. Un bacio alle mie fans, ai miei amici che mi sostengono da casa, da Napoli e spero che vincerò perché ci tengo molto. Vorrei dire soltanto che i miei opi sono i denti, l'ortodonzia e le belle donne. Vi amo Romania, vi amo Italia e vi tornerò da vincitore. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!